Benvenuti in questo nuovo video. Stavo facendo un giro sul sito tp-link.it. Lo sapete che tp-link da pochissimo, si parla di alcuni mesi, con ne fosse entrata nel mondo degli smartphone. Ho visto praticamente una promo che è valida dal 7 ottobre al 22. Praticamente c'è questa pagina che è dedicata alla promozione. Ve la riassumo brevemente. Praticamente cosa vi serve fare? Vi serve comprare un EFOS C5 Max su Amazon, lasciare una recensione su Amazon con possibili foto e o video, compila il modulo di richiesta legando lo screenshot della recensione, copia dalla fattura o foto del numero di serie. Questo è il form da compilare. Scopri qual è il tuo premio. Praticamente la promozione, vi dicevo, è valida dal 7 al 22 ottobre. Il 22 ottobre verranno pubblicati sulla pagina Facebook i vincitori e dentro 30 giorni, a partire da 30 giorni dopo il giorno dell'acquisto, praticamente verranno contattati via mail. Quindi una promo davvero interessante che vi permetterà di acquistare praticamente uno smartphone e avere completamente il rimborso. I primi due riceveranno un rimborso del 100%, i successivi 8 del 50% e tutti gli altri voucher riceveranno un buono da 20€. Quindi comunque al peggio riceverete 20€ di rimborso. Quindi fatevi due conti, prendete il prezzo dello smartphone, togliete 20€ e quello sarà quello che effettivamente pagherete poi il terminale. Dai, per questo breve video è tutto, io vi ringrazio e niente, al prossimo video. Ciao dalle Sound Tech World! Quindi la domanda è, posso utilizzare un modem alternativo a quello della fibra di Tim? Non perdere la parte fonia, quindi la parte telefonica, la parte void, insomma. Tirarlo via, buttarlo nel cestino e utilizzare un altro modem? La risposta è sì. Ciao!